per preparare le piccole quiche tricolori ho bisogno di spinaci lessati strizzati molto bene della ricotta sale pepe un uovo dei pomodorini di quelli passati nel forno delle foglioline di tivo e del formaggio primo sale da cui ho ricavato dei dischettini già pronti dopo da posizionare sulle mini quiche la pasta brisè già stesa tagliata in dischi che ho posizionato in questa forma di silicone creando delle piccole porzioni che saranno le nostre mini quiche appunto ora prendo l'uovo lo rompo lo sbatto leggermente lo inserisco nel mio frullatore unisco la ricotta gli spinaci un pochino di sale e di pepe con un cucchiaino ripongo parte della farcia che ho ottenuto in modo equo in ognuno delle piccole quiche ora che ho preparato le mini quiche le metto nel forno a 180 gradi per una quindicina di minuti finché sono cotte ora che sono fatte le mini quiche le preparo mettendo al centro di ognuna uno di quei dischetti di formaggio il primo sale che avevo già ritagliato al centro del quale posiziono un mezzo pomodorino e completo con un rametto di timo fresco ed ecco pronto l'antipasto grazie 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 grazie